Sono i dati che sono stati resi pubblici oggi dal centro di coordinamento dell'AE, l'organismo che si occupa del monitoraggio di questa tipologia di rifiuto. Possiamo anche anticipare che in questo primo scorcio dell'anno 2015 la percentuale si è quasi raddoppiata, siamo a oltre il 7%, dobbiamo altresì dire che comunque siamo ancora non vicinissimi ai limiti che ci impone una specifica direttiva della comunità europea. Continueremo a lavorare affinché queste percentuali si rafforzino, si implementino, anche e soprattutto perché questa particolare tipologia di rifiuto incide in un modo abbastanza diretto sulla salvaguardia dell'ambiente del nostro pianeta. Basti pensare che la quantità di gas presente in un singolo frigorifero, se liberata in aria, potrebbe determinare la distruzione di una quantità molto importante di ozono. Ecco perché prendiamo davvero con estrema positività il fatto che a taluna agevolazioni che il centro stesso nel corso degli anni ha predisposto e messo a disposizione delle realtà comunali, quest'anno hanno subito un forte incremento. Ecco perché a giorni noi procederemo attraverso la stipula di un protocollo d'intesa proprio con il centro a diffondere queste notizie per tutti i 305 comuni di Abruzzo.